e bentornati ragazzi in questo nuovissimo video sono sempre io felix oggi insieme andiamo a scoprire un trucco che ci permetterà di capire se i prezzi scontati su amazon quando c'è il prime day oppure quando c'è il black friday sono reali quindi capire proprio se veramente quel prodotto che è stato scontato su amazon è effettivamente scontato oppure se è solo una strategia di marketing dove tu vai a vedere che c'è lo sconto del prodotto poi alla fine quel prodotto lì lo vai a comprare e alla fine vai a scoprire con l'andare dei mesi quando è finita la promozione vai a scoprire che il prodotto alla fine costava meno di quello che l'hai pagato con il prezzo scontato che tu hai visto con il prime day oppure con il black friday quindi oggi insieme vi faccio vedere un trucco che ti permetterà di tracciare i prezzi che ci sono all'interno di amazon vedere proprio la sua storia del prezzo e capire quando è il momento di acquistare il prodotto ma prima di proseguire con il video come sempre ti invito ad iscriverti al canale attivare la campanellina se vuoi rimanere aggiornato anche su queste strategie per capire i prezzi dei prodotti di amazon e ovviamente attivando anche la campanellina i prossimi video parleranno di come guadagnare soldi online perché questo canale di youtube chiamato felix fa guadagnare soldi online in modo completamente gratuito dovrai solamente e come sempre investire il tuo tempo guardando il video tutorial e applicando con l'andare dei mesi le strategie per guadagnare soldi online e nei prossimi video raga vi farò vedere quali sono i migliori siti per guadagnare soldi online non solo soldi ovviamente ma anche buoni regalo amazon completamente gratuiti quindi se volete rimanere aggiornati iscrivetevi e attivate la campanellina qua ragazzi come vedete intanto sono all'interno del sito che fa guadagnare buoni amazon e non solo in modo completamente gratuito se volete rimanere aggiornati iscrivetevi e attivate la campanellina per i prossimi video e ovviamente guadagnando buoni regalo in modo completamente gratuito grazie a questi siti web il nostro conto come vedete di amazon va a salire come vedete io attualmente ho più di 1000 euro tutto reale ok ragazzi questa qua è una pagina web come vedete ok non è mica un'immagine e ho guadagnato tutti questi buoni regalo effettuando le strategie che sono il mio canale di youtube e ovviamente grazie ai siti web che fanno guadagnare i buoni regalo come vedete qua sono stati aggiunti dei buoni regalo da 100 euro sul mio conto personale di amazon per un totale il tuo saldo buoni regalo è di 1000 euro ma oggi raga non parliamo di come guadagnare buoni regalo amazon in modo completamente gratuito andiamo a parlare di questo trucco che ho scoperto che ci permetterà di capire se le offerte del prime day sono valide quindi che non ci stanno mica prendendo in giro come vedete tipo questo notebook da gaming che ha un valore di 2149 euro con il prime day adesso costa 1719 euro ma questo valore qua questo sconto qua è valido è veramente così adesso non andiamo a capire prima di tutto ragazzi vi dovete registrare a amazon ovviamente con i vostri dati una volta che vi siete registrati dovete andare su google e andare nel motore di ricerca a scrivere KEPA e andate a ricercare questo sito qua praticamente è questo qui il primo sito che vi compare KEPA amazon price tracker ci premete sopra che cos'è questo sito qua questo sito qua praticamente è nient'altro che è un'estensione che praticamente si va ad allacciare a amazon che cosa vuol dire vuol dire che adesso noi andiamo a installare come estensione come vedete la possiamo installare su firefox su chrome su opera su windows 10 e su safari 14 la andiamo ad installare potete andare anche direttamente ad installarla tramite il browser e come vedete ci sono più di un milioni di utenti che l'hanno installata come estensione ve la troverete poi qua nella destra come vedete KEPA amazon price tracker che cos'è questa estensione qua praticamente ogni volta che noi andiamo a selezionare un prodotto qualsiasi tipo di prodotto facciamo per esempio questo prodotto qua il notebook qua abbiamo il prezzo originale di 2149 euro e il prezzo scontato di ben 429 euro quindi 1719 euro ma il prezzo scontato è veramente questo cioè con l'andare del tempo questo notebook qua vale veramente 1719 euro come sconto ne vale la pena adesso andiamo a vedere se abbiamo installato l'estensione andando sotto alla pagina in automatico come vedete l'estensione si metterà qua e qua andiamo praticamente a vedere la history la storia del prodotto da quando è stato pubblicato su amazon andiamo a vedere la storia del prezzo del prodotto qua come vedete il prodotto è sempre costato 2149 euro qua potete vedere sotto abbiamo i mesi settembre qua ci abbiamo agosto ok il prezzo è sempre lo stesso 2149 euro andiamo a ricercare un altro notebook per esempio questo qua dell'hp ha un valore di 899 euro scontato con il prime day viene 669 euro andiamo a vedere adesso se ne vale la pena andando sotto qua ragazzi come vedete abbiamo una history a ottobre 899 euro vediamo a settembre quindi il mese scorso questo prodotto qua costava 799 euro quindi il prezzo con il prime day è ancora più basso è 669 euro quindi è valido come acquisto e possiamo risparmiare 230 euro un altro esempio dell'estensione che abbiamo installato per esempio questo notebook qua della lenovo ci premiamo sopra questo notebook qua costava più di 1000 euro con il prime day costa 949 euro quindi 150 euro di sconto e adesso visto che abbiamo installato l'estensione andiamo a vedere se lo sconto è valido come prezzo quindi andiamo in fondo alla pagina e qua come vedete in automatico l'estensione si va ad aprire come vedete a settembre ad ottobre il prezzo del notebook della lenovo è sempre 1000 euro un po' di più e qua come vedete ad agosto il prezzo si è abbassato 999 euro quindi adesso ce lo ritroviamo a 949 euro quindi ancora più basso e abbiamo più sconto quindi con il prime day praticamente questa estensione qua chiamata capa ci consente di tracciare il prezzo proprio come lo dice amazon price tracker di tracciare il prezzo di ogni prodotto presente su amazon da quando è stato pubblicato e ve la troverete poi sempre qui sotto l'estensione installata automaticamente andremo a tracciare praticamente ragazzi il prezzo del prodotto quindi andremo poi a capire se è veramente il prime day oppure il black friday ci fanno veramente gli sconti oppure se è solo una strategia di marketing per vendere il prodotto ebbene ragazzi per i video è tutto mi raccomando se volete rimanere aggiornati poi su come guadagnare buoni regalo amazon in modo completamente gratuito iscrivetevi al canale attivate la campanellina e noi ci vediamo in un prossimo video ciao da felix